L'augurio di oggi è ovviamente che si riesca a comprendere che legge e libertà sono unite nelle religioni, quindi non c'è una cosa a discapito dell'altro, così come è stato detto da tutti e tre i religiosi. Ho voluto concludere con questa citazione di Romeo Giulietta proprio per far capire che anche i desideri sono, come è stato detto, buoni o cattivi perché l'anima umana ha del buono e del cattivo all'interno, quindi anche i ragazzi dovranno poi riuscire a trovare la loro strada e capire quale parte dell'anima seguire e non demandare ad altri delle scelte che sono invece della persona.